Il tuo hitbox che splendido nell'ombra apparirà Limpato come adesso non lo sono stato mai E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene Tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà Ma fa 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 Ecco fatto Beh, è terribile Lo prendo come un complimento Buonasera, buonasera, pomeriggio slash sera Benvenuti, grazie mille Socrates Manias Grazie mille del Prime E benvenuti su Wesatwitch Una puntata programmata dalle 18 Ma che inizia quasi un'ora prima Perché mi è stato chiesto e in realtà perché avevo modo di farlo Grazie mille Perseu, grazie del Prime E anche The Last Come sapete ho visto anch'io per segnalazioni varie La fine della live del Cerbero di poco fa Non so che cosa abbia fatto esattamente Medusa Francesco, ti ho fregato E le mie ultime dieci pagine sono belle Quindi le dovrai leggere comunque Non so che cosa sia successo Però ho fatto in tempo a vedere Simone In lacrime Per via del trattamento che ha ricevuto O per il fatto che il Cerbero sta Andando in pausa Da quello che ho capito A tempo indeterminato Da quello che ho capito Fatto sta che ho visto le varie stories Dei tre principali conduttori E mi sembra di aver capito Che Mr. Flame torna a fare Mr. Flame Se non ho capito male Che Simone non sa che cosa farà esattamente E mi sembra anche di aver capito Che Marra non lo so neanche io cosa farà Ma lui probabilmente le dà chiare Non so però esattamente che cosa andrà a fare E comunque sia È una cosa che mi ha molto colpito Il discorso Di là del Cerbero Che magari tornerà Magari no Comunque hanno ancora delle live Che devono fare Ma mi ha molto colpito Il discorso di Simone E della fede Della fede trovata Il contatto con Dio O con lo spirito Anche qui non sono sicuro Di essere dettagliatamente informato Ma non ho capito Se il contatto è stato con Dio O con lo spirito santo Però comunque pare che ci sia stato E quindi E quindi La verità è Gesù Esatto Anche io ho letto Ho sentito anche questo Anche su Instagram L'ha detto Ed è una cosa che mi colpisce molto Perché lamentare Grazie fede montuori Un cambio di atteggiamento Da parte degli altri Per il fatto che si è trovata La fede religiosa Ha ricevuto lo spirito santo Se avesse ricevuto lo spirito santo Sarebbe una roba Una roba di altissimo livello Cioè sarebbe un rapporto Con il divino Credo di alto livello Cioè ricevere lo spirito santo Non è una cosa Così banale Se non erro Non vorrei essere Disinformato Ma credo che non capiti Troppo spesso Di ricevere lo spirito santo Credo che sia qualche cosa Che è accaduto Alla madonna Pene o male L'immacolata concezione Ha a che vedere Con Il volpe Con lo spirito santo Ma comunque sia Il cambio di atteggiamento Ah te lo mando Ok Il cambio di atteggiamento Nei suoi confronti Dovuto A questo risveglio religioso Diciamo così Ed è una cosa Che mi colpisce Perché Mi fa pensare Al Al conformismo Internettiano Conformismo magari Nei confronti Delle persone Che ti seguono E il desiderio Magari di Di provare cose nuove Di cambiare La paura forse Di cambiare No Non è la madonna Che è nata senza peccato È Gesù La madonna Ha partorito Gesù Senza avere mai Perso la verginità E più non dimandare E quindi È una cosa È una cosa Interessante No Si esperisce E si esperisce È un dogma Comunque l'immacolata concezione Assolutamente sì Non potete Non potete fare È un dogma E basta Ok Credo che rimanga Senza peccato Anche dopo Però lei Comunque Non ha perso La verginità Di Okane Penso Comunque È una cosa Grazie a Danimera È nata senza peccato Lei stessa È nata senza peccato È il momento È il momento Di andare su Wikipedia Ve lo metto Perché ragazzi A questo punto Mi sembra perfettamente In tema Tra l'altro Immacolata concezione È un dogma Della Chiesa Cattolica Proclamato Papa Pio IX Nel 1854 Con la bolla Ineffabili Deus Pagliaio Come hai fatto A evidenziare Quel messaggio In quel modo così figo Ma ci sono Delle opzioni nuove È peccato Crederci Pagliaio È mod Ma Ah hai pacato Bene 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 Abbiamo già fatta Sta gag Che sancisce Bravissimi Come la Vergine Maria Sia stata preservata Dal peccato originale Fin dal primo istante Del suo concepimento Quindi lei era proprio pura Since the beginning Esso dunque va distinto Dal concepimento Verginale di Gesù Nel momento Dell'annunciazione Il dogma Dell'immacolata concezione Trae fondamento Dalla questione biblica Del peccato originale Infatti ogni essere umano Nasce con il peccato originale Ma secondo Madonna mia Zaki Ma secondo la Chiesa Cattolica Solo la madre di Cristo Ne fu esente Poiché in vista Della venuta E della missione Sulla terra del Messia A Dio piacque Che la Vergine Dovesse essere Il grembo puro E senza peccato Per accogliere in modo Degno e perfetto Il figlio divino Incarnato Ah chiedono Io poi me le scordo Ste cose Dovete scusarmi Io le imparo E le disimparo Andiamo a vedere Il concepimento Verginale L'incarnazione Nel cristianesimo È il momento In cui la seconda Persona della Trinità Il figlio di Dio Oppure il logos Verbo Teotokos Teotokos De ipara Ok Letteralmente Colei che genera Dio E spesso reso in italiano Con madre di Dio L'incarnazione È fondamentale Insegnamento teologico Del cristianesimo ortodosso Niceno Basato sulla sua interpretazione Del nuovo testamento L'incarnazione È il fatto che La seconda In creata ipostasi Termine greco Tradotto in attino Con persona Del Dio Uno e Trino Al momento stesso Del concepimento Nel grembo Delle versi di Maria Assunse la natura umana Del corpo e dell'anima Razionale Dell'uomo Gesù Di Nazareth E divenne uomo Rimanendo Dio Vero uomo E vero Dio Come già Sant'Atanasio Di Alessandria Nella Bibbia L'affermazione più chiara Si trova in Giovanni E il verbo si fece carne E venne ad abitare In mezzo a noi E pensate che Questa è la più chiara Nell'incarnazione Come detto La natura divina Del figlio Si unì con la natura umana In una persona divina Umana Che è Gesù di Nazareth Gesù Cristo Che fu quindi Simultaneamente Vero Dio E vero uomo L'incarnazione Viene commemorata Ogni anno a Natale Con un riferimento Anche alla festa L'unnocezione Questo è fondamentale Per la fede tradizionale Osservata dalla maggior parte Dei cristiani Opinioni alternative Sul tema Sono state esposte Nel corso dei secoli Ma tutte respinte Dagli organismi Cristiani tradizionali All'inizio Tutti cristiani Gesù Sebbene Gesù fosse Chiaramente il figlio Che cosa significava Esattamente Il dibattito su questo tema Imperversò soprattutto Durante i primi Quattro secoli Del cristianesimo E coinvolge Ebrei cristiani Gnostici Ragazzi White people problems Interpretazione cattolica Benedetto XVI Si è voluto soffermare Sul mistero Dell'incarnazione Per evadire la sua unicità Nell'ambito Della dottrina cristiana E più specificamente Cattolica Incarnazione deriva Da latino Incarnazio Sant'Ignazio di Antiochia Fino al primo secolo E soprattutto Sant'Ireneo Hanno usato questo termine Riflettendo sul prologo Del mangelo di San Giovanni In particolare Sull'eplosione Il verbo si fece carne Qui la parola carne Secondo l'uso ebraico Indica l'uomo Nella sua integrità Tutto l'uomo Ma proprio sotto l'aspetto Della sua caducità E temporalità Della sua povertà E contingenza Questo per dirci Che la salvezza portata Da Dio Fattosi carne In Gesù di Nazareth Tocca l'uomo Nella sua realtà concreta In qualunque situazione Si trovi Dio ha assunto La condizione umana Per sanarla Da tutto ciò Che la separa da lui Per permetterci di chiamarlo Nel suo figlio unigenito Con il nome di Abba Padre Ed essere veramente Figli di Dio Il verbo si fece carne È una di quelle verità A cui ci siamo così abituati Che quasi non ci colpisce più La grandezza dell'evento Che essa esprime Qualcosa di assolutamente impensabile Che solo Dio Poteva operare E in cui possiamo entrare Solamente con la fede Il logos Che è presso Dio Il logos Che è Dio Il creatore del mondo Per il quale furono create Tutte le cose Che ha accompagnato E accompagna gli uomini Nella storia Con la sua luce Questa è sempre Giovanni Diventa uno tra gli altri Prende dimora in mezzo a noi Diventa uno di noi Il concilio ecumenico Vaticano II Afferma Il figlio di Dio Ha lavorato con mani d'uomo Ha pensato con mente d'uomo Ha agito con volontà d'uomo Ha amato con cuore d'uomo Nascendo da Maria Vergine Egli si è fatto veramente uno di noi In tutto simile a noi Fuorché nel peccato È importante allora Recuperare lo stupore Di fronte a questo mistero Lasciarci avvolgere Dalla grandezza di questo evento Dio Il vero Dio Creatore di tutto Ha percorso come uomo Le nostre strade Entrando nel tempo dell'uomo Per comunicarci La sua stessa via E lo ha fatto Non con lo splendore di un sovrano Che ha soggetto Con il suo potere il mondo Ma con l'umiltà Di un bambino Quindi Dio Onnipotente Ed onnisciente Rispetto al quale Nessuno degli eventi mondani Può risultare sorprendente Capito perfettamente Che non v'è cosa Che non abbia voluto È venuto a rimediare Qualcosa Che ha fatto lui stesso Molto bene È venuto a dare una mano È un aggiustamento In qualcosa Che non può Che essere perfetto Beh Da un punto di vista argomentativo Ho qualche perplessità Ciò nonostante Dopo parliamo anche del libro Ciò nonostante Mi ha colpito Come vi dicevo Il discorso Beh Scusate Ma mettiamo questa immagine Mi ha colpito Il discorso Si può togliere Sta scrittina Che No Anzi Si può ingigantire Ma non tolgo Sti gazzi Mi ha colpito molto Non è tanto La cosa greve In questa vicenda Non è tanto La conversione Di Simone In sé per sé Ma il suo modo Di porsi con tutti Si autodefinisce Un risvegliato E aggredisce verbalmente I suoi colleghi E la chat Appena lo contraddicono Eppure Eppure Mi permetto di dire Che un risvegliato Di questi risvegli Non dovrebbe essere Così severo Nei confronti Della contraddizione Credo che una certa Toleranza Per la contraddizione Dovrebbe essere Parte del packaging Del pacchetto completo Della fede La cosa che mi ha colpito Del suo discorso È la denuncia Che ha fatto Del cambiamento Di comportamento Nei suoi confronti Da parte di tante persone Non parlava soltanto Della chat Della sua chat Della loro chat Ma anche L'ha detto Sono vittima Della bestia Che ho creato Inutri Creato Ah beh Inteso come la chat Sua Più o meno A due minuti e trenta Grazie a Celio Grazie a tutti Questo Preciso Grazie mille Io sono ancora arrivato Al punto del mio discorso Ma mi fa piacere Perché Stiamo preparando bene Il campo Perché sta cosa Si rigira Sempre su se stessa Per me semplicemente Grazie mille Azzugi Grazie del Prime Cerbero smette di esistere Se uno di noi tre Decide di andarsene E continuarlo Mozzato Non ha senso Non ha senso E io Adesso In questo momento Sono una persona Un ragazzo Di trentun anni La cui passione È la Bibbia Gesù E Dio Grazie orso brù Ma Posso fare una domanda Ma è bullismo Se faccio una domanda Legata alla pronuncia È bullismo Voglio chiedere Alla chat È bullismo Ok Quindi Non domanderò E Darò per buono Che la Bibbia E la Bibbia Siano la stessa cosa Mi scuso per il bullismo E voglio parlare di questo Voglio essere libero Di parlare di questo Non di sbroccare Non di mancare di rispetto A nessuno E Bibbia Ma Bibiano Quindi forse è Bibiano Ovviamente Voglio essere Fatelo Sdianu Fatelo che mi piace Libero di questo Ma mi accorgo Che Non è possibile Simone Interani è passato A essere un libertario Un progressista Ad un conservatore cattolico E beh Ci sta Fatti prete Scrivete in chat Ieri Dopo aver parlato Con Con Davide E gli altri Ho chiamato i miei Ho parlato con mio padre L'ho videochiamato Poi mi si è scaricato il telefono E sono corso a casa loro Per continuare a parlare Perché Gli ho chiesto consiglio Gli ho detto Papà Io questo sento Io voglio parlare di questo È proprio Mr. Mar Che se ne è voluto andare Ok 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 Io voglio condividere Questo messaggio Che per me è di Mondiale importanza Vitale importanza È proprio una questione di vita o di morte per me E voglio condividerlo Ma la situazione è questa E anche per colpa mia Del mio Perché ho sbroccato Per colpa mia Grazie Samba Grande La situazione appunto È questa qua che vi sto a di pure a voi Durante tutti questi anni Grazie Priterba Si è creato come Questa è una mia interpretazione Ah ma sono tornato alle origini È un bloccato Ah ok ok Era finito E va bene va bene Abbiamo capito Abbiamo capito il discorso La cosa che Io gli ho sentito Grazie per sicchiotto Da lì anticipo di brutto Le sub La cosa che mi ha Colpito È quello che lui ha denunciato Cioè il fatto che tante persone Nella vita reale E dei suoi follower Hanno cambiato modo di trattarlo E hanno detto che è impazzito Comunque le hanno Non sono state tenere Nei confronti di questo suo Cambiamento di prospettiva O contatto con lo Spirito Santo Che esso sia E quindi io mi domandavo Cara chat Siccome temo Le maglie del conformismo Da internet Quella Quella sensazione per cui Devi sempre Devi sempre In qualche modo Corrispondere al tuo personaggio Voglio testarvi E farvi delle domande E discutere insieme a voi Quali sono I cambiamenti In me Che voi Tollerereste Oppure quelli che vi farebbero Cambiare atteggiamento Nei miei confronti Ad esempio Farò alcuni esempi Perché voglio testare Perché voglio capire Qual è il mio grado di libertà Cioè Se si scoprisse Che sono un trafficante D'organi Vi darebbe noia Cambierebbe Il vostro Modo Di comportarvi Nei miei confronti Dipende da quali organi Vabbè Pollage Un reno Dipende dal prezzo Giustamente Dipende anche dal mercato Se 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 Invece Cambiassi Ma Cambiassi Come Qualcuno di voi Ha già anticipato Se invece Dicessi Che mi identifico Ma Senza modificare Nulla di superficiale Semplicemente Una cosa Nel mio foro Interno E più Non dimandare Che mi identifico Con un altro sesso Con un'altra etnia Con un'altra persona O con Oggetti Voi Cambiereste Il modo Che avete Di parlarmi E di rapportarvi Con me Caso per caso Ma tutto bene Basta che non voti Lega Con un'altra etnia Con vanna E se Vi dicessi Se mi identificassi In boldrina E invece Se Se mi ritrovaste Se mi ritrovaste Fra i docenti Di un nuovo corso Alla scuola Holden Come reagireste? Un corso Alla scuola Alla scuola Holden Di Di scrittura creativa Tenendoci per mano Ma A distanza Ognuno Dalla sua camera Online Video Preregistrati Precaricati Girati una decina D'anni fa Tutti per voi Detto questo La Coito Academy Sarebbe ovviamente Un sogno Piuttosto Io ho pensato In realtà Quello che è successo A Simone Mi dà da pensare Perché I WESA token In realtà Più che I WESA token Una cosa che Anche qui Vorrei sapere Che cosa ne pensate E se cambierebbe Il vostro modo Di rapportarvi con me Mi piacerebbe Proprio cercare Di fare concorrenza Alla zecca di stato Cioè Vorrei iniziare Se per voi Non è un problema Perché chiaramente Inizieremmo Da questa community Vorrei iniziare A battere moneta Vorrei iniziare A battere moneta Ma Con La mia faccia Sulla moneta E la W Dall'altra parte Questo Mi promettece Mettete che dopo Andate nei negozi A pagare Con i WESA coins Il WESA Potrei riscappare Il nulla Con i soldi veri Esattamente No in realtà No certamente Sì Umberto Il mio periodo Il mio periodo Putiniano È stato meraviglioso Comunque scherzo A parte Al di là Al di là Delle gangs Quello Che succede A Simone È peso Perché Ti rendi conto Che lui Come Grazie a Giovin Signore Grazie mille Del Prime Ti rendi conto Che lui Come influencer Lui come influencer È tenuto A rimanere uguale A se stesso O comunque A non sgarrare Più di tanto Io non ho Purtroppo Non ho mai Avuto contatti Con lo Spirito Santo Con la Madonna Non ho mai avuto Contatti con Dio E neanche con il Figlio Però Io voglio dire una cosa Ma se Io vi porto In live Una prova Dell'esistenza Se io Dovessi incontrare Dio E vi portassi In live Una prova Dell'esistenza Di Dio Come reagireste? Ah c'è già C'è già Una prova Una prova Magari anche ospite Magari ospite Beh perché Non ospite? Oddio Oh mamma Questo recuperatelo Voi Perché non ospite? Perché non Soprattutto Come direbbero Tipicamente I commentatori Lui si è messo Si è posto In modo aggressivo A Dici Medusa Molti Molti commentatori Dicono una cosa Di solito Quando parli di qualcuno Ti dicono Eh bisogna Che lo inviti Eh ora Dovete parlare Ora bisogna Che facciate Una live Insieme Lo sapete Ragazzi Io vorrei Qui pubblicamente Sfidare Dio Adesso parlo Dio Ad un incontro Se Dio Afferma Di esistere Che venga in live Su Wesa Twitch A interloquire Il suo solo venire in live Su Wesa Twitch Mi lascerebbe E lo capite benissimo Mi lascerebbe totalmente Senza argomenti Detto questo Non riesco a non dire Stronzate Ma vorrei Spezzare una lancia Per Simone Purtroppo Non riesco a non dire Stronzate Perché Faccio fatica Lui sicuramente Si è posto male Immagino Do fiducia A Medusa E altri che lo seguono Immagino che abbia commesso Degli errori Come diceva anche oggi Però io credo Che Tratta tutti Come persone limitate Che non capiscono E non possono capire Io credo Che Se Uno dei Conduttori Del Cerbero Podcast Cambia personalità O un attratto importante Della sua persona Eccetera Qual è il problema? Da un punto di vista Narrativo Da un punto di vista Dell'attenzione Dal punto di vista Di creare scandalo Di attirare Il pubblico Dovrebbe teoricamente Succedere in modo ciclico Perché è la cosa migliore Tanto più Sei una cosa sincera Tanto più Che crei un personale È content Ma non lo sto dicendo Per scherzare È content Ho scritto a Boldrip Per parlare di videogiochi Arte e spreco di tempo Mi ha risposto Che viene a dibattere Solo se porto papers Che dimostrano La non inutilità Dei videogiochi Perché lui ne ha tantissime Che dimostrano il contrario Peso Papers che leggerei Anche molto volentieri A proposito di Di Boldrin Mercoledì prossimo Alle ore 21 e 30 Ma sarà Anche Se riesco Tecnicamente A farlo Ma dio mio Ho tutti questi giorni Grazie Marzi 80 È uscito un video Di Eugenio Mercoledì prossimo Alle 21 e 30 In teoria In teoria in live Sia su Weza Channel Che sul canale di Boldrin Saremo in live A discutere di creatività Entrambe le live Saranno per i rispettivi Abbonati Vi invito Ad abbonarvi a Weza Channel Livello regaz Ovviamente E quindi Se vi va Se vi va Grazie Sbibolo Se vi va Il prossimo Mercoledì Sarò in live Con il buon Boldrin Per discutere Di ciò che avevamo iniziato A discutere Dopodiché Infatti Porca puta Ve l'ha detto Eugenio Guarda che ormai Sare tutti abbonati A Boldrin Comunque Dopo alcuni giorni Forse Lunedì Non lo so Perché non l'abbiamo Ancora stabilito Uscirà comunque In chiaro Per tutti Direi come l'altra volta Sia su Weza Channel Che sul suo canale Questo però ve lo dico Si farà questa live E Mi dispiace La sensazione Di non poter essere Ecco la cosa che mi ha Pur non credendo io in Dio E non avendo nessuna buona ragione Per farlo La cosa che mi ha colpito E con cui empatizzo Del discorso di Simone È questa sensazione Che lui ha palesemente provato Di non poter più essere se stesso Nello stesso posto Dove si trovava prima Considerando che è content Considerando che è content Anche da un punto In un'accezione positiva Perché è content Nel senso che No Cioè È interessante È interessante Vedere Una persona Che Cambia Radicalmente Lo trovo un contenuto Non ironicamente interessante E quindi In realtà Il cerbero diventava Più ricco Perché è più Più diverso Più Più variegato Certo Capisco che Un Un ambiente Probabilmente Non molto Cattolico Come quello Del cerbero E dei suoi follower Avrebbe divorato Il credente Soprattutto se credente Di tipo Oracolare Cioè Ho avuto un contatto Con Dio La mia missione Gesù Eccetera Eccetera Che Si pone in un modo Che Credo Una community Come quella del cerbero Ma non solo Quella del cerbero Farebbe Farebbe facilmente A pezzi Quindi è Comunque una perdita Perché È Non deve essere Questa cosa Che su questo aggettivo Che sto per usare Questo avverbio Non deve essere visto Come sminuitivo È antropologicamente Interessante Vedere una persona Sedicente Religiosa Nel giorno d'oggi Nel mondo di oggi Nella società di oggi È una cosa Estremamente rara Serve a tutti Quando ieri parlavamo Di Cos'era antimaterialista E Severino È interessante Il consiglio Naturalmente È leggere Severino Leggete Severino Ok Come il consiglio Potrebbe essere Leggete la Bibbia Perché dovete usare Dovete Potete usare La vostra Intelligenza Rispetto Ai testi X e Y Ma è anche interessante Vedere un severiniano Come Come si Si pone Come Come Cosa Cosa dice Cosa pensa Anche quello Non è una cosa Così Così Frequente Ok Si è definito Evangelico Non cattolico Bella Ci sta No Perché No Ma Rilasciato Perché Dio Non poteva Essere Argomentazione Valida Per tutte le live Di dubbi Dalla chiamata Del signore Non ha mai risposto Bene al contraddittore No no Questo non ci sono dubbi Great twitch Non ci sono dubbi Non metto in dubbio Che ci possono essere Altri problemi E che Al tempo stesso La pretesa Che sia unico argomento Di parlare solo di quello Può essere Difficile da sostenere Però sarebbe stato Sarebbe stato interessante Ovviamente dal mio punto di vista Sarebbe stato interessante Perché Perché avrebbe esposto Il pubblico Ad un'occasione Di ragionamento Anche i video di Padre Antonio Com'è che si chiamava? Padre Alberto Don Alberto Don Alberto Era Don Alberto Quello che avevamo visto i video Anche i video di Don Alberto Erano a loro modo Interessanti Perché sono una prova Incredibile Per Per l'intelligenza Di chi li guarda Nel caso Di una persona Così esposta Anche se ovviamente Non puoi mai dire Di conoscerla di persona Ci mancherebbe altro Però comunque Sei sfidato Sei sfidato A pensare A quello che stai vedendo A farti delle domande E lo vedi All'opera Chiedi Scusa a tutti i cristiani Ma vaffanculo Letteralmente Un dialogo platonico Ai tempi dei soci Il problema di Simone È proprio il modo Di porsi Citando quasi letteralmente Chiunque pensi che Dio Non esiste È arrogante È stupido Chiunque dica che Dio esista Non è arrogante Perché è così O altre cose del genere In continuazione Ad esempio Mr. Frame Ha fatto una battuta Sulla B Sì 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 Ma vedi anime e topi Anche questo è interessante Infatti era stato interessante Vedere quel video Magari non Non il più elevato Che si possa immaginare Ma una posizione Come quella È interessante Perché chi ha l'onere Della prova E accusa di arroganza Chi gliela domanda Si pone In una grave contraddizione E quindi Perché no? Quando la credenza In Dio Si può giustificare Soltanto con Un'esperienza privata Personale Che può essere spiegata Soltanto in termini emotivi Ma non può essere argomentata Non hai nulla Per convincere Per convincere Ecco Che questo ci dice qualcosa Della fede E della religione Non ci dice tutto Simone Santoro Non è Ratzinger Ma abbiamo appena letto Quel pezzettino di Ratzinger E Forse le differenze Non sono così tante Personalmente Ho imparato non poco A livello argomentativo Proprio grazie a Certe tui reaction a video Chi come Eh no Ci sta Ci sta Mi fa piacere Da fuori più che religioso Sembra indottrinato Ho già detto Di aver letto Eckhart Tolle Di cui ho sentito Alcune critiche Ma Eckhart Tolle Non è Non voglio dire Una stronzata Chiedo scusa Non è una specie Di motivational Il tizio Di tizio motivational Oddio cosa ho fatto No Ah ok 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 E non la voglio stai Via Eckhart Tolle È tedesco È uno scrittore E oratore tedesco Autore del pensiero Il potere di adesso È un nuovo mondo Abita in Canada In una notte del Questo è interessante In una notte del 1977 A 29 anni Idolatra Qualche mese fa Sembrava andare Verso la strada Del buddismo Ma quello brutto Che andava a vedere I santoni in real life Nei teatri Eh beh È una ricerca In una notte del 1977 A 29 anni Dopo un lungo periodo Di depressione Che lo aveva portato Quasi sull'orlo del suicidio Si svegliò in preda A un attacco di ansia È una pena Quasi insopportabile Molto spesso Le conversioni Nascono dal dolore E anche questo È un argomento interessante Non potevo più Vivere con me stesso E in questo Scusate Sorse una domanda Chi è questo io Che non può vivere con sé Cos'è il sé Mi sentì attirato Dentro il vuoto Non sapevo allora Che ciò che stava accadendo Era che la mente Con la sua pesantezza I suoi problemi Che vive tra un passato Insoddisfacente E un futuro pieno di paure Era crollata Si era dissolta Il giorno dopo Mi svegliai E regnava una grande pace C'era pace Perché non c'era un io Solo un senso di presenza O di essere Solo un osservare E guardare Suona un pochino Anche buddistico Ah Adottò proprio Il nome Eckhart In omaggio Al filosofo mistico Renano Fiammingo Maester Eckhart Maester Maester Eckhart Esperienza personale Dopo il covid Come si è capito Sono di Bergamo In particolare Biografia dell'autore Un sacco di miei amici Hanno trovato Dio All'improvviso E un po' basito Mi ha lasciato Più che altro Per quanto poco in linea Con la loro personalità Una delle Ora farò un discorso Che potrebbe fare Eckhart Tolle Però mi fa un po' strano Mettere preferisco Una delle sfide Della vita È affrontare Le crisi Tutti avremo Delle crisi Tutti avremo Dei crolli Tutti avremo Dei momenti In cui Ci troviamo davvero Allo stremo Delle nostre forze Mentali In cui la nostra Salute mentale Sarà sfidata No? Messa a dura prova Si può rimanere lucidi Nell'occhio del ciclone L'occhio del ciclone In teoria non succede un cazzo Si può Saremo capaci Saremo capaci Che è veramente La gag di Eko Solo rigirata Saremo capaci Di non prenderci Troppo sul serio Nel nostro momento Di massimo dolore Riusciremo a ridere Di noi stessi Nel momento più difficile Ancora una volta Scusate Voglio mettere un volto A schermo I nostri feticci Il nostro caro amico D'ogazzo Il nostro caro amico Feynman Ne parla E parla Proprio di questa cosa In un suo In un suo Libro Che non è il piacere Di scoprire Ma l'altro No, non è il senso Delle cose Ma il piacere Di scoprire Uno dei due Esattamente Grazie Goyard Se ti ricordi anche il titolo Mettilo Perché non mi ricordo Qual è dei due Il discorso Dell'orologio E lo trovo Una delle parabole Il senso delle cose Perfetto Una delle parabole più belle Non la posso certamente Definire religiosa Non la posso certamente Faccio fatica A definirla spirituale Anche se potremmo Negoziare Il significato Di spirituale Una delle parabole più belle Per capire La sfida umana A cui siamo tutti chiamati Non c'è bisogno Di essere Feyman Per vincere quella sfida Però essere Feyman Ha aiutato Feyman La sua amata moglie Erano ancora molto giovani Se non sbaglio Entrambi Amatissima Muore Di una brutta malattia Grazie Rolliplay Fogliariarsi Non ce l'ho qua Quel libro Quindi non saprei Andarla a prendere Se qualcuno Ce l'ha in pdf Da mettere a schermo Eventualmente Ma insomma Ve la faccio breve Anche se sarebbe bello Leggerla Perché è raccontata In modo molto Amabile Ovviamente in Feyman Riconosciamo subito Un onnipresente Senso dell'umorismo Non a caso Muore La sua amatissima moglie Muore Se non erro Davanti ai suoi occhi In ospedale O comunque lui La va a trovare in ospedale E lei viene a mancare Non ricordo esattamente Come sia Un'epoca scientifica La nostra E io invece Invido le persone Come Feyman Ti dico la verità Perché credo Che quello sia Il livello finale E un po' cerco Di essere come lui Non per lui Cioè C'ho sempre provato E si blocca L'orologio Loro avevano Non mi ricordo Se l'orologio Tra l'altro Scusate Ma non mi ricordo I dettagli Non mi ricordo Se l'orologio Lo indossava la moglie O lo indossava lui Non mi ricordo Comunque credo Il suo orologio Insomma Si blocca L'orologio Da polso All'ora esatta Della morte Della moglie Una coincidenza Che ha un sapore Il suo orologio Ok No credo fosse Da polso Credo fosse Un orologio Da polso Non ha così Tanta importanza Però non mi ricordo bene E chiaramente Una di quelle coincidenze Che dica L'orologio Si ferma Nell'ora Della morte Della moglie Una coincidenza Straordinaria Nel momento Di massimo Dolore Un segno Divino O di qualche Altra entità Ma Qualche cosa Che rimani Prendi l'orologio Lo metti In una teca Dentro di te Un'emozione Che cazzo Davvero Si è fermato Nel momento In cui lei è morta È l'anima È un segno Uno può andare Verso una religione Bella strutturata Oppure qualcosa Di diverso E molto banalmente Feynman Ha l'intelligenza Di dire Pazzesco Vero Certamente La batteria Non la ricaricavamo Da un po' Poteva fermarsi In qualunque momento E si è fermato In quel momento Ovviamente Non vuol dire nulla Quella È Ora Cerchiamo Di Dovremmo riuscire A metterci Nei panni La tua Amatissima Moglie Giovane Perché erano Tutti e due Giovanissimi Muore Di una brutta Malattia È un dolore Che non oso Non oso immaginare Che dolore Deba essere stato Una cosa Che ti devasta In quel contesto Lì Succede Una cosa Così Ma tu hai La lucidità E l'onestà Intellettuale L'onestà Intellettuale Non è negare Il dolore Non è dire Hai l'onestà Intellettuale Di guardare La realtà Come la guardavi Prima No ma certo Pagliaio Però faccio per dire Inviato PDF Su Esatab Allora Grazie 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 Questa è una cosa Molto bella Secondo me Oltre che Mi abbiate Inviato il PDF Ah Grazie Marco Allora Scansione antivirus Lo scarichi Sto faticando Ah ecco È arrivata l'opzione Perfetto Arrivo Hi guys Se riusciamo a leggere L'aneddoto Ecco arrivo Ma sono poche pagine Non è niente Arrivata l'aneddoto Arrivata l'aneddoto Eccoci qua Richard Feynman Il senso delle cose Credo che sia sicuramente Anche sull'Uesashop Tra l'altro Qualcuno di voi Mi sa dire la pagina A cui io troverò Codesto Codesto pezzo Credo sia verso la fine Primo Levi Nei sommersi salvati Di essere entrato Ateo nel lagre E poi di essere uscito Ateo lo stesso Cerca orologio Bravissimi E grazie Com'è il cerca Control F Grazie Credo che non riesca A cercare sul test Sta palesemente Non riuscendo A cercare sul test Eh perché è uno scan Esattamente 69 Madonna ragazzi Quanto siete belli È un segnale divino Secondo me sì Però qui non ne sta ancora parlando 69 del pdf Vabbè che in realtà Corrisponde Aspettate Il saggio è quello Il saggio è quello Ma è più avanti Magari lo trovo occhio Un altro punto La scienza Vado a Las Vegas Il ma Lo troviamo Lo troviamo Lo troviamo Professore in Virginia 88 Grazie mille Siete belli Quando fate così Siete belli Eccoci qua Eccoci qua Grazie mille ragazzi Ne sarà valsa la pena Questo è fin troppo zoomato Andammi una via di mezzo Ok Un'altra caratteristica Di questi ineddoti È che non si raccontano Tutte le circostanze Per questa ragione Vi racconterò un'altra esperienza Meno allegra Quando avevo 13 o 14 anni Conobbico lei Che sarebbe diventata Mia moglie L'amavo moltissimo E ci vollero 13 anni Per arrivare a sposarla Non è la mia attuale moglie Come vedrete Si ammalò di tubercolosi E la malattia durò diversi anni Quando si ammalò Le regalai un orologio Che invece delle lancette Aveva dei grandi numeri Che giravano man mano A lei piaceva molto Lo tene con sé per tutto il tempo Sul comodino accanto al letto Per 4, 5, 6 anni Alla fine morì Morì alle 9.22 di sera E alle 9.22 in punto L'orologio si fermò E non si mosse mai più Non è incredibile? Mi ricordai però Di un paio di cose Da qualche tempo Diciamo 5 anni dopo Che l'avevo acquistato L'orologio perdeva colpi Ogni tanto lo doveva aggiustare E quindi gli ingranaggi Erano tutti un po' più laschi Inoltre Essendo la stanza in penombra L'infermiera Che compilò il certificato di morte Lo aveva preso in mano Per guardare l'ora E poi lo aveva riposto Se non avessi notato Questi particolari Avrei qualche problema Bisogna stare molto attenti In questi casi A prendere nota di tutto A volte la spiegazione del mistero Sta in un piccolo dettaglio Che è passato inosservato Quindi in breve Un paio di casi Non dimostrano nulla Bisogna controllare tutto con cura Altrimenti si diventa Come quelli che bevono Qualunque cosa E non capiscono nulla Del mondo in cui viviamo Nessuno capisce il mondo In cui viviamo Ma alcuni se la cavano un po' meglio L'altra cosa importante È la campionatura statistica Un concetto che ho implicitamente Introdotto quando dicevo Che gli psicologi Cercano di progettare esperimenti In cui si abbassa La probabilità Di risposte casuali La statistica La probabilità Sono argomenti matematici E quindi non mi addentrerò Nei dettagli L'idea generale È abbastanza ovvia Per sapere quante persone Sono più alte Di un metro e ottanta Possiamo prendere Cento persone a caso Vedere che magari Quaranta sono più alte E concludere Che lo stesso vale Per tutta la popolazione Sembra una cosa da nulla Beh lo è e non lo è Se scegliamo le certe persone Tra quelle che passano Dal mondo Ok 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 Se le scegliamo In un gruppo di amici Magari sono tutti Localizzati in una zona Se le scegliamo In modo assolutamente Indipendente Dalla loro statura Allora Ok 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 Direi che Volevo vedere Se parlava ancora Del discorso dell'orologio Ok 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 Poi cambia argomento Ma no Me lo ricordavo Molto più lungo Questo racconto La mente La mente La moglie Era l'orologio La mente Me la ricordavo Una parabolona Pazzesco 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 Bella comunque Per Feynman Qui in realtà Lui parlava In realtà Parlava anche Del fatto Di essere Molto attenti Ai dettagli Ai particolari Non smettere Di farsi domanda Che ci può stare Quell'orologio Era Barack Obama Bella per Eckhart Tolle Si fa per dire Bella per il Padre Nostro Allora Siamo qui riuniti Invece Con La mente Mente Madonna se mente La mente Siamo qui riuniti Con il libro Di cui Spero di riuscire a leggervi Con questa luce Direi di sì Qualche estratto Che ho letto per oggi E qualcuno di voi So avere letto Insieme a me Si chiama La cultura del pianisteo La saga Se l'avete a schermo La saga del politicamente corretto Di Robert Hughes È un libro del 92 Sono delle conferenze tenute nel 1992 Poi riredatte Sempre nello stesso anno Dopo le elezioni di Bill Clinton A presidente degli Stati Uniti È un testo Che vi consiglio abbastanza Nel Weza Shop Farò Una nuova categoria La chiamerò Club del libro Di Weza Twitch Questo sarà il primo E il secondo Sarà quello che leggerò E leggeremo Chi vorrà di voi Per la prossima volta Che sarà Non ce l'ho a portata di mano Sarà quello di Ligotti La cospirazione contro la razza umana Credo che si chiama Perché ce l'ho in casa Come vi dicevo Partirò da libri Che ho in casa E che volevo leggere Quindi E devo mettere anche il secondo Esatto Perché se no Non posso creare Lo volevo fare Ma con un libro solo Non si può Quindi dovevo decidere il secondo Dopo lo faccio Quindi Sarà il libro Che leggerò Per la prossima settimana Di cui discuterò insieme a voi Questo libro è di Robert Hughes Robert Hughes Giornalista Esperto di storia Non so se è letteralmente Uno storico Non mi ricordo Ma comunque Ci va molto vicino Molto molto in gamba Una bella figura intellettuale Di persona molto lucida E molto colta Australiano Che vive da vent'anni Negli Stati Uniti Quando scrive questo libro E un pensatore Molto Non un filosofo Nel senso che Questo non è un È più una raccolta Di aneddoti E qualche Riflessione Più che condivisibile Non è un testo di filosofia Non è denso Argomentativamente Questo libro Racconta gli Stati Uniti Dagli anni Ottanta In poi In particolare Ma in realtà La storia degli Stati Uniti E si interroga Sul politicamente corretto Si interroga Sulle sue radici Sulla differenza Fra destra e sinistra Lui fa la differenza Fra politicamente corretto E patriotticamente corretto Che sarebbe Il politicamente corretto Di destra Per così dire Non è A dispetto Di quello che Può far pensare Il titolo Questo non è Un libro Contro la sinistra E non è assolutamente Un libro di destra Lui Cerca di costruire La storia Del politicamente corretto E di questo bigottismo Nel dibattito pubblico americano Di cui oggi Sappiamo così tanto Partendo dal puritanesimo E quindi di fatto Accuserà la sinistra Per così dire In particolare La sinistra accademica Dagli anni Sessanta in poi Di cedere al metodo Della destra puritana Ok E di fatto Il politicamente corretto È una vittoria Della destra Sulla sinistra Da un punto di vista Metodologico Questo si può estrarre Molto bene Da questo libro A mio avviso Ma lui è molto chiaro Nel attribuire responsabilità Molto più gravi A bigottismo religioso Antiabortismo E robe del genere Rispetto a Non lo so Riscrittura della storia In chiave anticolonialista Marxismo Eccetera eccetera Ciò nonostante Gli stanno sul cazzo Tutti e due Perché lui palesemente È un intellettuale Diciamo di stampo Illuminista Pragmatico E E questo libro è Ha una cosa in comune Con il libro di Postman Non è così importante A mio avviso Però È fondamentale Per sapere di cosa si parla Quando si parla Politicamente corretto Fondamentale Quindi ve lo consiglio davvero E Come posso dire Potrebbe essere scritto oggi E questa cosa inizia Questa cosa inizia ad essere Chiara In libri che parlano Della televisione Negli anni 80 Negli Stati Uniti Ma in realtà Potrebbero parlare anche Della televisione nostrana Da quegli anni lì in poi Perché Tutto ciò che ha fatto L'internet dei social Lo stava già facendo La televisione La televisione commerciale E il dibattito pubblico Diretto Instradato E obbediente Ai dettami Della televisione commerciale Quindi è incredibile Quanto funzioni bene Come il libro di Postman Che è un libro dell'85 Quanto funzioni perfettamente Questo libro del 92 Per capire oggi Non c'è una riga Che tu diceva Beh sta roba è datata No 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 Nulla Anche perché Tutto quello che abbiamo oggi È semplicemente La versione in cattività Più potente Con meno alternative Questa secondo me È la cosa più importante Di quello che c'era già Perfettamente tale e quale Negli anni 80 E anche prima volendo Negli Stati Uniti Quindi un libro fondamentale Di storia della cultura Da questo punto di vista Lettura molto semplice Sono 230 pagine Che si bevono Proprio perché non è un testo denso Da un punto di vista Categoriale o argomentativo E quindi è molto 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 consigliato Ripeto Non è il grande testo Di filosofia Però è una lettura Secondo me Da fare assolutamente È anche una storia Del dibattito pubblico Del politically correct La nuova sensibilità decreta Che i nostri eroi Sono le vittime Ok Leggo un pochino Di cose che mi sono segnato Col diffondersi Anche in campo artistico Di una lacrimosa Avversione all'eccellenza La discriminazione estetica Viene tacciata Di discriminazione Raziale o sessuale Com'è il nuovo Guerre stellari Acolightly Com'è La vacca sacra Della cultura americana È attualmente L'ego L'autostima è inviolabile Sicché ci affanniamo A trasformare le accademie In un sistema In cui nessuno può fallire Scritto oggi Il culto del maltrattato Bambino in noi La gratificazione A breve termine Questo veramente Avanti Veniamo creando Un'infantilistica cultura Del pianisteo Dove c'è sempre Un padre padrone A cui dare la colpa E dove l'ampliamento Dei diritti Procede senza L'altra faccia Procede senza L'altra faccia Della società civile Il vincolo Degli obblighi E dei doveri Qua poi parlava Anche della psicologia Il discorso Del bambino in noi Voglio leggere Lo sto pezzo Non essere consci Di aver avuto Un'infanzia infelice Agli occhi di organizzazioni Come tal dei tali Prova lampante Di denegazione L'assunto è che Tutti l'hanno avuta L'infanzia infelice E sono pertanto Potenziali fonti di reddito Il culto del maltrattato Bambino in noi Ha una funzione Molto importante Nell'America di oggi Ci informa Che la lagnanza personale Trascende l'espressione politica E che la curva ascendente Del narcisismo piagnone Non interseca per forza La spirale discendente Della vacuità culturale Così la ricerca Del bambino in noi Ha preso piede Proprio nel momento In cui gli americani Dovrebbero scoprire Dove si trovi In loro l'adulto E come mai Quel trascurato vecchiardo Si è sepolto Sotto il charparme Della psicologia pop E della gratificazione A breve termine Sì l'attacco Per il che peso E parla di tantissime cose Parla di letteratura Parla di arti figurative Parla di politica Naturalmente Grazie a Aster La politica Che diventa Gestione dell'immagine Negli anni 80 Abbiamo visto L'arte di governo Farsi tutt'uno Con la gestione dell'immagine Troppe cose In questa presunta Repubblica aperta Si facevano All'insaputa Dei cittadini Venivano presentate In termini sommari Di un semplicismo Da fumetti Offensivo Per la pubblica intelligenza Tutto questo Si chiamava Lasciare che Reagan Facesse Reagan E si accordava Perfettamente Con i dettami televisivi Ok per questo vi dico Che non è assolutamente Un libro di destra Perché è devastante Nei confronti Del conservatorismo Americano di destra Appunto La tv è la musa Della passività Con efficienza Da sonnambulo Reagan ha abbassato L'America al suo livello Questo è Mike Buongiorno se vogliamo Grazie Christian Lasciare che Reagan Facesse il regaz Una politica Da rotocalco Per un'era di giornalismo Da rotocalco Dirà più avanti Il processo cominciato Con i Kennedy Raggiunse il culmine Con i Reagan Concentrazione Ossessiva Sulla persona Del presidente Quale monarca Vicario Non più il primus Inter pares Così rivoluzionalmente Concepito dai fondatori Della repubblica Ma dove era il cittadino? Fuori dal palcoscenico Come il pubblico Agli spettacoli Qui ovviamente Versus i padri fondatori No? Di quella che è la più antica Democrazia del mondo Il vittimismo di Taylor Swift È presente in questo libro Scritto nel 1992 Grazie per averlo scritto Ci arrivo tra poco Perché vi voglio leggere Un paio di cose E poi c'è il discorso Della feconda polarizzazione Che fa parte Della strategia retorica Usata dai conservatori Religiosi Diremmo Teocon Americani La feconda polarizzazione Il tizio che fu anche redattore Dei discorsi di Nixon Se spacchiamo il paese a metà Possiamo prenderci La metà più grossa Per dividere una comunità civile Occorrono capri e spiatori E qualcuno da demonizzare Caricature umane Che drammatizzino La differenza fra loro E noi Da manuale Ripeto Tante cose interessanti Proprio di storia dell'America Il maccartismo Il nuovo maccartismo Di sinistra Che si è impadronito Degli Atenei E sta distruggendo Le libertà di pensiero Adesso non posso certamente Leggervelo tutto Voglio cercare di andare Alle parti un po' più salienti Come su un punto esclamativo Sarà più interessante Quando l'anti-elitarismo Degli anni 60 Quindi parliamo Di un'università americana Che negli anni 60 Inizia a cambiare di segno Da conservatrice A progressista Quindi anche occhio All'anti-intellettualismo Che a volte Può essere anche Il nome di comodo Per una critica Delle università Comunque Quando l'anti-elitarismo Degli anni 60 Ha preso piede Nella scuola americana Infatti Si è portato dietro Una sconfinata Cinica indulgenza Verso l'ignoranza Degli studenti Razionalizzata Come riguardo Per l'espressione personale E l'autostima Per non stressare Sono tutti virgolettati I ragazzi Con troppe letture Troppi sforzi cerebrali Cosa che al contatto Con richiesta di livello universitario Poteva far crollare Le loro fragili personalità Le scuole hanno ridotto La quantità delle letture Riducendo così Automaticamente Anche la loro padronanza Della lingua Non esercitati All'analisi logica Male attrezzati Per sviluppare E capire un'argomentazione Non avvezzi A consultare testi Per documentarsi Gli studenti hanno ripiegato Sulla sola posizione Sulla sola posizione Che potevano rivendicare Come propria Le loro sensazioni Su questo O quello Rileggere La prefazione A lector in fabula Quando eco Polemizza Con Roland Barth Wink Wink Le loro sensazioni Su questo O quello Quando gli stati d'animo Sono i principali referenti Di un'argomentazione Attaccare una tesi Diventa Automaticamente Un insulto A chi la sostiene O addirittura Un attentato Ai suoi diritti O supposti tali Ogni argumentum Diventa Ad hominem E rasenta la molestia Se non la violenza Verra e propria Mi sento molto minacciato Dal tuo rifiuto Delle mie opinioni Su Barrare una casella Il fallocentrismo La dea madre Il congresso di Vienna Il modulo di Jung Ok Provate a tramandare Questa soggettivizzazione Del discorso Per due o tre generazioni Di studenti Che poi diventano insegnanti Con progressivo accumulo Di diossine Sessantottesche E avrete il background Entropico Della nostra cultura Del pianisteo Figuriamoci Oggi Vorrei rileggerlo Quel passaggio Perché anche a me È piaciuto molto Quando gli stati D'animo Sono i principali Referenti Di un'argomentazione Attaccare una tesi Diventa automaticamente Un insulto A chi la sostiene O addirittura Un attentato Ai suoi diritti O supposti tali Ogni argumentum Diventa Ad hominem E rasenta la molestia Se non la violenza Verra e propria Una microaggressione La vecchia Di passaggio La vecchia divisione Fra destra e sinistra Ha finito per assomigliare Piuttosto a quella Fra due sette puritane La vittoria Di cui questo libro parla La vittoria Del puritanesimo In America In realtà Il dominio Del puritanesimo Sul dibattito pubblico Americano Da sempre Nella storia americana Sempre molto potente Assieme ad altre influenze È una vittoria Metodologica Della destra Sulla sinistra Perché è una sinistra Che usa gli stessi Metodi della destra Pur applicandosi Ovviamente A distanze differenti E quindi Una cosa che questo libro Non dice Ma che io ne traggo E che secondo me È importante La sfida Non è fra destra e sinistra Perché quella è la sfida Superficiale per gli allocchi La sfida è fra Pensiero pragmatico O illuminista Se preferite E dogmatismo O bigottismo Quello che vi pare La sfida Oggi più che mai Per l'individuo Perché in generale Non abbiamo gli strumenti Per riuscire a invertire La corrente La sfida Oggi più che mai È non essere Dei bigotti Altro che D'essere sinistra Che sono diventate Loro malgrado Delle Delle coperte superficiali Di qualcosa di più profondo In cui in realtà Più si va appunto Su quella polarizzazione Sia nel 92 E già la indicava Sono Sono Accomunate Da una metodologia Pur essendo importanti Le differenze È più importante Non so Parlare di È più grave Dal mio punto di vista Almeno essere anti-abortisti Che essere a favore Di una riscrittura Della storia americana Che veda Nell'uomo bianco Etero il cattivo Lo trovo odioso Ma Mi sta più sul cazzo L'anti-abortista Ok Qui parla Della pop star Madonna Visto che si parlava Di Taylor Swift Madonna È un argomento Di lezione Per simili solfe Ammantata Di teorie Vedo Non vedo Ora trasparenti Ora opache La cantante È diventata La pin-up Di punta Del mondo Accademico Americano Come ha detto Daniel Harris Sul Nation Madonna È stata reclutata Per il ruolo Vistosamente improbabile Di portavoce Dei valori E degli interessi Professionali Dei docenti universitari I corsi Su Taylor Swift C'è una Madonna Lacaniana Una Bodrillardiana Una Freudiana Una Foucaultiana Un po' come nel Cattolicesimo Mediterraneo Si può invocare La Madonna Di Loreto Di Fatima O di Lourdes Una studiosa Marx Femminista Come Melanie Morton Può spiegare Che le sue Melodie Virgolettato Impediscono Quella che In termini Narrativi Chiameremmo Una conclusione Ideologica Non c'è Una ricapitolazione Che consolidi Il potere Stabilisca O ristabilisca Un elemento Come dominante Così La bionda vamp Fa saltare in aria Il potere costituito Mina le costruzioni Capitalistiche E rifiuta Il nocciolo Delle piste Meborgese Un'affermazione Che farebbe scalpore Presso i miei datori Di lavoro Della Time Warner I quali hanno Recentemente versato Madonna 60 milioni di dollari Di diritti Come rifiuto Non c'è male La verità È meno estrema Certi accademici Vogliono una porzioncina Questa Questa è da segnare Certi accademici Vogliono una porzioncina Del lustro spettacolare Fornito Dalla cultura Di massa Questa potrebbe Anche essere Una critica Umberto Eco Se ci pensate Abbagliati Dal suo luccichio E dal suo Bla 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 Sono più dei gruppi Che dei ribelli Pensate Le fan Di Taylor Swift Che fanno i corsi Essendo nella posizione Di poterlo fare L'universitario progressista E il conservatore culturale Sono avvinghiati In una folia A2 Termine psicologico La folia A2 In piena regola Che li sorregge entrambi E la sola persona Che ciascuno dei due Detesti più dell'altro È quella che dice A tutti e due Di non prendersela tanto Tale è l'ultima mutazione Del retaggio puritano In America Poi le parla tanto Della storia puritana In America Adesso voglio provare Dirà Farà considerazioni ovvie Si può imparare Da Picasso Senza essere fallocrati Da Rubens Senza diventare Cortigiani asburgici Da Kipling Senza convertirsi All'imperialismo Ovviamente Cerca di difendere Uno studio dell'arte Basato Sull'estetica E non sulla politica Fermo restando che L'arte politica È sempre esistita Ovviamente Per di più Molti radicali Sembrano presumere Che guardando Ad altre culture Nella categoria Multiculturalismo Si debba guardare Soprattutto alle loro Versioni del marxismo Della lotta Di liberazione E via dicendo Ma pretendere Che si ammirino In altre culture E paesi Le forme ideologiche Che essi hanno importato Non molto tempo fa Dall'Occidente Non è forse Una nuova parodia Eurocentrica Se questo entusiasmo Per le riedizioni Del marxismo In Africa Asia Medio Oriente Non è eurocentrismo È ma a modo loro Che è esattamente Quello che faceva La chiesa Con l'evangelizzazione La polemica Sul canone Cioè quali opere Debbano O non debbano Possano O non possano Fare parte Di quello che Viene considerato Il canone Dei classici Il canone Delle opere importanti Il canone Delle opere Da insegnare Esatto 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 La polemica Sul canone Rispecchia Il tenace Convincimento Che le opere D'arte Siano O debbano Essere Terapeutiche Che fare di Selin Dobbiamo bruciare Sad Dice la letteratura Non è un bel trattamento Terapeutico Normalizzatore Che si proponga Di guidarci Con qualche buffetto A diventare cittadini Migliori Della specifica repubblica In cui facciamo Le nostre letture Sembra che questa volta Sfugga in America Agli intellettuali Di entrambe le parti Perché entrambi Sia a destra Che a sinistra Pretendono Che l'opera d'arte Abbia lo scopo Di Educare Il buon cittadino Ad essere Il buon cittadino Poi fa notare Ovviamente Che l'immensa repubblica Delle lettere Contiene tutto Il contrario Di tutto Se vuoi trovare Antidemocratici Nella storia Della letteratura Ne trovi più Che democratici Per dire Dice la letteratura Culturale Culturale di tipo Di tipo diverso Possono occupare Il centro parlante Delle forme letterarie Ma perché mai Questo dovrebbe essere Una ragione Per non leggere L'Eugenio Onegin O l'epistola A Lord Barlington Di Pop Quindi contro Se vogliamo La cancel culture No? Il senso Della qualità Dello stile Della misura Non è un obbligo Che la razza Il sesso La classe sociale Possano imporre Alla letteratura A vita autonoma Dagli stereotipi Di gruppo Dice Nella mente Di ogni scrittore C'è un tribunale Invisibile Di scrittori morti Convocato Per atto Di immaginazione E non per sottomissione A un qualche concetto Di autorità Questo tribunale Giudica il nostro lavoro E noi ne desumiamo Intuitivamente I nostri criteri Di giudizio Le sue sentenze Non sono esecutive Ma contro di esse Non ci appello Nessuno dei nostri Stratagemmi Il personale Fatto Feticcio L'estetica Buttata in politica Le logore Simulazioni D'avanguardismo Farà sì che scompaia Almeno se siamo onesti Con noi stessi Se quel tribunale Non ci fosse Ogni prima stesura Sarebbe un manoscritto Definitivo Non si può ingannare Madre cultura Però questo ragionamento È molto interessante Se quel tribunale Non ci fosse Potremmo chiamarlo Il tribunale dell'estetica Ogni prima stesura Sarebbe un manoscritto Definitivo Per quale motivo Rivedere una stesura Che è oltre Per quale motivo Mai dovremmo rivedere La stesura di qualcosa Per quale Elitarismo Fallocentrico È biografia È lezione È lezione morale Che si produce Dalla sofferenza Della mia biografia Che altro Che altro chiedere Più non dimandare Tutto il resto Che cos'è Tutto il resto È la costruzione Colonizzatrice Fallocentrica Di un'elite Culturale Bianca Maschia Etero Che ha voluto Imporre i suoi stilemi E Shakespeare Era uno stronzo Mentre invece Tizio Che ha scritto Con le scoreggie È un grandissimo Perché ha sofferto tanto E un altro discorso Qua proprio da fascismo Eterno di Umberto Eco Grazie a The Pots La politica Non deve essere Un'ipervasiva Una delle prime condizioni Della libertà È scoprire il confine Oltre il quale La politica Non può andare E la letteratura È uno dei mezzi Che permettono ai giovani E ai vecchi Di scoprirlo La politica pervasiva Grazie Steve Come avevamo detto Eh mi sa che l'ho già letta 87-88 Mi sa che abbiamo sottolineato Vediamo Sì 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 Lo leggevo prima Steve Sì sì Punto esclamativo grosso così E lo leggevo prima Come dicevamo E come indica Eco Nel fascismo eterno Per cui è ben giusto Parlare di fascismo Al di fuori Di destra e sinistra Perché se è un fascismo Di destra E uno di sinistra Nel momento in cui Lo abbiamo astratto Come termine Che va al di fuori Del fatto storico Il discorso Scusate Della politica onipervasiva È la cosa più fascista Che esista Tutto è politica Ogni andito Ogni comportamento Ogni pensiero Scova il fascista interiore Dentro di te Non c'è un ragionamento Più fascista di questo E il club del tennis È il club fascista del tennis In epoca In epoca fascista Poi non so se era il tennis Un altro sport L'onnipervasività Della politica Quindi non esiste Altro criterio Che non sia quello Dell'impegno Ovviamente Sempre inquadrato Da che parte lo si guardi Nella rispettiva ideologia Che è assolutamente vera È premessa non discutibile Nella direzione di ciò Che indica Dobbiamo tutti remare Se no siamo cattivi È il bello È il buono Guardate cosa sta facendo Disney Negli ultimi anni Con i suoi prodotti Raccapriccianti Per cui una persona Che fa parte Di una certa minoranza Dovrà essere rappresentata In questo e quest'altro modo Quelli che fanno parte E le colpe dei padri Sono ricadute sui figli Ma bisogna pareggiare E via andare Di follie In stampo Neomarxista Ovviamente Il bisogno di buoni E cattivi assoluti Si annida profondamente Dentro di noi Ma riduce la storia A propaganda E nega ai morti La loro umanità Fatta di peccati Virtù Tentativi Fallimenti Preservare la complessità Senza appiattirla Sotto il peso Di un anacronistico Moraleggiare Fa parte Del compito Dello storico Qual è una cosa Che caratterizza L'arte totalitaria Dall'Unione Sovietica Fino Allo squallore Delle ultime serie Di Disney Plus È scritta male L'arte totalitaria Wannabe totalitaria È un'arte Che sacrifica La complessità In particolare Grazie Pisacane Sacrifica La complessità Del personaggio Proprio quando vi dicevo Dell'importanza Del personaggio Perché Dostoevsky È così grande Perché riesce A restituire Ad approfondire La psicologia Di personaggi Diversissimi fra loro Che cos'è La psicologia Del personaggio Perché è così cruciale Perché parla Della complessità Dell'essere umano E della complessità Della realtà Con cui l'essere umano Si interfaccia Questa complessità Non prevede Buoni e cattivi Ma prevede Persone immensamente Complesse e contraddittorie Come ciascuno di noi Che si interrogano Su che cosa sia giusto O non giusto fare Su che cosa sia buono E cattivo Di volta in volta Scoprendo che non è così facile E quindi Più le opere Sono moralizzatrici Di stampo religioso Di stampo comunista Di stampo quello che vi pare E più sono banali Nella rappresentazione Dei loro personaggi Buoni e cattivi Tagliati con laccetta Ridicoli per analfabeti Analfabeti che si ha tutta cura Di mantenere tali Perché non dovranno mai Conoscere la complessità Della realtà Che ovviamente Sventisce qualunque ideologia Che non potendosi aggiornare Ed essendo sempre vera Non può essere mai Al passo con la realtà Che muta ogni momento E quindi soprattutto Quando sono stravecchie Sono già strainvecchiate Immaginate Vivere sacro Un libro scritto 3.000 anni fa O 2.000 anni fa Ci vuole del coraggio Quindi sì Un libro che Gli spunti li dà Adesso vedo C'erano altre cose Che mi erano piaciute Ci arrivo Un passettino Alla volta Perché sto sfogliando Le pagine contro vento Perché c'ho l'aria Mi sto mettendo in difficoltà Da solo Questo mi era piaciuto Poi si parla della storia L'iscrittura della storia Ovviamente in chiave ideologica Bla 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 Sempre riconoscendo L'importanza Che ha avuto Il progressismo Nel dare voce Alle voci della storia Che non c'erano Non è soltanto Il formaggio e i vermi Di Carlo Ginzburg Ma sono tantissimi libri Che lui cita anche qua In cui apprendi la voce Dei dimenticati Della storia In cui quindi capisci Che la storia Non sono soltanto Gli eventi capitati Ai re e ai ricchi E hai le inquadrature Dal basso Tutte cose importantissime Che ovviamente lui difende Ma lui è un uomo Tendenzialmente di sinistra Ma ripeto Liberale e pragmatico È il modo migliore Di definirlo E poi parla Dell'invenzione Delle tradizioni Per una questione Di la cosiddetta Autostima Per cui I neri In America C'è questo movimento Culturale Che dice Che tutta la cultura Del mondo Deriva dall'Africa Siccome dall'Africa Si sono mossi I primi esseri umani E ingloba ovviamente Tutta la cultura Del continente africano E c'era già tutto Quindi tutta la cultura Occidentale Cosiddetta E tutta la cultura Extra africana In realtà non è altro Che un rifacimento Della cultura africana E c'è solo l'Africa Nella storia E quindi c'è una superiorità Mitologica africana Su tutto Immaginatevi E questo perché Ci si deve dare un'origine Una cosa tipica Un mito originario Da cui far discendere La propria superiorità Anche questo è un razzismo Naturalmente Inventare tradizioni Come hanno mostrato Ampiamente Tizio e Caio È stata una delle industrie Culturali dell'Europa Dell'Ottocento E anche nel Novecento E se chiedete Quale fosse la molla Di questi tentativi Di mescolare la storia Con il mito La risposta è sempre la stessa L'autostima E poi fa esempi I tedeschi Dopo Versailles Gli italiani Eccetera eccetera Gli irlandesi Ma il desiderio di autostima Non giustifica le bugie Le esagerazioni E i travisamenti terapeutici A cui si può giungere In suo nome Se non sbaglio È l'Alexandra Ocasio Cortez Che Ha detto esplicitamente È più importante Torca Tipo è più importante Lottare per il bene Una cosa del genere Che dire la verità Non è esattamente così Ma era Non so se qualcuno di voi L'ha visto Perché poi era diventato Un meme Non so se qualcuno di voi L'ha visto Ma Il senso era letteralmente questo Ok Ma il desiderio di autostima Non giustifica le bugie E le esagerazioni Ok Il separatismo Così favorito Per cui Il fine giustifica I mezzi Il separatismo Così favorito Trasforma quello Che dovrebbe essere Quindi separatismo Fra Un multiculturalismo Che in realtà diventa Un separatismo Fra le culture Per cui c'è L'appropriazione culturale Di questo possono parlare Solo queste Eccetera Eccetera Si creano nuove Ghettizzazioni Eccetera Versus il melting pot Che è tipico Degli Stati Uniti Il separatismo Così favorito Trasforma quello Che dovrebbe essere Un riconoscimento Della diversità culturale Di un vero multiculturalismo Generoso e tollerante Da entrambe le parti In un pernicioso Programma simbolico Il separatismo È il contrario Della diversità E può dar luogo Ad alleanze scellerate Quasi 30 Questa cosa Non la sapevo Questa cosa Non la sapevo Ed è fantastica Quasi 30 anni fa I black muslims Di Malcolm X Quindi i musulmani neri Di Malcolm X E il partito nazista Americano Di George Lincoln Rockwell Ok Organizzarono Un raduno congiunto Al Madison Square Garden Per proclamare La loro comune aspirazione A spaccare gli Stati Uniti In due zone segregate Una per i neri L'altra per i bianchi Non c'è male Questo ve l'ho letto Perché non lo sapevo Mi ha fatto proprio dire What? E poi varie forme Di censura Eccetera Invece un bigotto Un bigotto Di destra Che si ricopre Di ridicolo È fantastico L'emendamento Helms Prendetelo così com'è Ovviamente tutto Circostanziato Nel libro Proponeva che non fossero Stanziati All'NEA Che è l'ente Per i fondi governativi E la cultura E la cultura negli Stati Uniti Che sono fondi microscopici Come potete immaginare Rispetto all'Europa Fondi governativi Per promuovere Diffondere O produrre Testualmente 1. Materiali osceni O indecenti Comprese ma non soltanto Rappresentazioni di sadomasochismo Omoerotismo Sfruttamento infantile Persone impegnate In atti sessuali 2. Materiale che denigri Gli oggetti di culto Le convinzioni Degli aderenti A una determinata religione O non religione 3. Materiale che denigri Svilisca O insulti persone Gruppi o classi Di cittadini In base a razza Fede Sesso Disabilità Età Origine nazionale Il tratto più evidente Curioso Dell'emendamento Helms Era che Se non fosse venuto Da un senatore repubblicano Notoriamente di destra Si poteva scambiarlo Spesso negli ultimi due punti Per uno dei regolamenti Limitativi Dagli agitatori Politically correct Nominalmente di sinistra Non era facile capire Cosa di preciso Intendesse Helms Per una determinata Religione o non religione Ma certo il punto 3 Faceva di lui Un avversario di razzismo Sessismo E ismi vari Attinenti a capacità E aspetto fisico E di ogni altra infrazione All'etichetta sociale La cui proscrizione Da parte dei Politically correct Suscitava tanta iliarità Fra i neoconservatori Gli estremi si toccano E poi dice L'altra particolarità Dell'emendamento Era di essere redatto In termini così generici Da renderlo virtualmente Privo di senso E sarebbe creato Come osservai La settimana seguente Su Time Una demenziale parodia Di democrazia culturale In cui ogni cittadino Diventa un catone Il censore improprio Perché un'opera d'arte Venga privata di sovvenzioni O Sottratta La vista del pubblico Basterà che essa Offenda Chi che sia Per una ragione Praticamente qualsiasi L'emendamento Insomma Era una codificazione giuridica Della nostra cultura Del pianisteo Quante volte Proprio di recente Abbiamo parlato Dell'offendersi Che se offendersi È criterio Ognuno è davvero Il catone Il censore Ma Se siamo tutti censori C'è solo il silenzio Taci Il nemico ti ascolta Taci Il passibile di offesa Ti ascolta Confusione fra Legge etica Ovviamente Una storia Di un tizio Che ha fatto Una mostra scandalosa Che i puritani Hanno cercato di censurare Seminò paranoia Nei rapporti Tra i musei americani E le loro fonti Di finanziamento Quando si trattava Di raccogliere fondi E di far fronte Alle richieste politiche Dei gruppi di pressione Produce tra i curatori E direttori di museo Un'atmosfera di dubbio Autocensura E disorientata cautela In questo lui è molto Filoeuropeo Nel senso che lui Ritiene molto importanti I fondi pubblici E la cultura Nel senso che dice Le istituzioni museali Eccetera eccetera Simili Diciamo Nel momento in cui Hanno soltanto Gli sponsor A cui Affidarsi Lo sponsor Ha tutte le intenzioni Ha tutto L'interesse Di non essere associato A qualcosa di controverso E quindi La morte dell'arte Sennò come sempre C'è il mecenate E rimane solo il mecenatismo Cosa di cui abbiamo Già parlato tante volte Per ripetere il concetto Gli americani Sembrano davvero Ritenere sotto sotto Che la giustificazione Principale dell'arte Sia il suo potere Terapeutico Puritanesimo L'America dei puritani Eccetera eccetera La storia Della bellezza Americana L'estetica americana Dal suo punto di vista Molto interessante Per superare La resistenza Puritana Alla ricchezza artificiale Alle lusinghe sensuali Dell'esperienza visiva Bisogna accentuare O meglio esaltare All'eccesso Il potere moralizzatore Dell'arte E volgere le riflessioni Sul trasporto emotivo In termini religiosi Beneficio Conversione Affinamento Unificazione Per farsi tollerare L'arte Dalla cultura puritana Quindi non necessariamente Soltanto dai puritani Veri e propri Bisogna premere Sull'acceleratore Del Salva l'anima È fatto per il bene Delle anime La prima forma Dell'artista americano Come eroe culturale È quindi quella Del predicatore Grazie ai sermoni Egli innalzava l'arte Dalla condizione Di mero mestiere L'artista supremo Era Dio Gli altri Imitavano la sua opera Il libro della natura Dividevano la luce E placavano le acque I luministi di Boston Ok ok Facevano da contrapeso Il materialismo americano Perché ovviamente L'America ha tante anime Non solo quelle puritane Ma qui ci interessa Perché lui parla proprio Del politically correct Poi vabbè Il romanticismo Bla 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 Molto interessante Davvero È interessante Da leggere sul libro Fantastico Questo passaggio È fantastico Boston Boston sì L'arte politica Dell'America postmoderna È tutta una predica Ai convertiti Bell'immagine Predica ai convertiti Io forse me la dimenticherò Qualcuno di voi La tenga a mente Che è carino È tutta una predica Ai convertiti Come ha osservato Adam Gopnik Grazie mille tolia Sul New Yorker Recensendo La Carnage International Di Pittsburgh Quest'arte Consiste Essenzialmente Nel prendere Un'idea ineccepibile Nella sua ovvietà Il razzismo È un male O a New York Non dovrebbero esserci Migliaia di barboni E di matti per le strade E poi darle Una cifra così Inintelligibile Che lo spettatore Quando è riuscito A ritradurla Sente l'orgoglio Di partecipare A ciò che chiamiamo Il discorso Del mondo artistico Ma avere per tema L'AIDS O l'intolleranza Non dà A un'opera d'arte Pregi estetici Maggiori Che se parlasse Di sirene e palmizi La vita è bella Di Benigni È un film di merda Fa schifo È un film per idioti Il grande Lebovski Parla di tizi Che giocano a bullying Ed è un capolavoro assoluto Un film di una finezza Che non si esaurisce mai Il tema Il tema Per il benessere Dell'anima Perché tutti ci ritroviamo A dire Il nazismo Era cattivo Ma grazie al cazzo I tratti costanti Dell'arte vittimistica Americana Sono le pose E l'inettitudine Nella performance Di Tizio Caio Abbiamo un concentrato Delle storture Dell'arte Come politica L'idea Che la pura Espressività Sia sufficiente Che io divento Artista Mostrandoti Le mie viscere calde E sfidandoti A rifiutarle Non ti piacciono Le mie viscere Fai il paio Con il tizio Puritano Cattivo Di prima Io sono una vittima Come usate Impormi i vostri Canoni estetici Non vedete Che con tutto il male Che mi avete fatto Mi basta mostrare Le mie ferite E chiamarla arte Le pressioni Dell'attivismo Impegnato Creano tensioni Nei musei Come nelle intenzioni E sono rapidamente Interiorizzate Dai comitati direttivi Una moral suasion Te la senti Di andare contro Gli attivisti Una volta Due volte Dopo poi Inizi Inavvertitamente A dargli retta Il museo Particolare di musei Ma voi ampliate Il museo Estretto dolorosamente In una morsa Tra la ganascia di destra E quella di sinistra Rischia di torcersi Fino a diventare Un oggetto inservibile Negli Stati Uniti Queste pressioni Sono molto più forti Che in qualsiasi paese europeo Di mia conoscenza Speriamo che rimanga così Ma sappiamo che La cosa si sta Tutto quello di cui parla Questo libro Esisteva già Tra gli anni 80 E gli anni 90 Esiste oggi Ma oggi Ha molto più spazio E molta meno alternativa Come vi dicevo prima E quindi è molto più forte Sono il risultato Di un martellamento politico Totalizzante Della convinzione Comune alla destra E alla sinistra Che nessuna sfera Della cultura pubblica Deba essere esente Da pressioni politiche Perché tutto si risolve Comunque in politica Quello che dicevamo prima Per cui illusoria E superficiale Rimarrà la contrapposizione Fra destra e sinistra Perché ammetto Soprattutto oggi Con la iperpolarizzazione Che porta appunto A due forme di bigottismo E di puritanesimo Di fatto Quindi in realtà È una vittoria Metodologica Della destra Sulla sinistra Grazie a Undershade E più profonda E reale È la divisione Per cui possiamo essere amici Di un uomo di destra Di una persona di destra Di una persona di sinistra Non sarà mai quello il punto Più profonda E sostanziale È la divisione Fra Bigottismo E Illuminismo Pragmatismo Quello che vi pare Poi fa un discorso Anche molto simile Anche qui L'abbiamo già fatto anche noi In un mondo artistico Sovrappopolato Con un mercato depresso Sempre più Sentiremo parlare Di discriminazioni A danno degli artisti Recriminazioni senza fine Su razzismo Sessismo e così via Mentre il vero problema È che gli artisti sono troppi E non c'è spazio per tutti Molti artisti Si sentono defraudati E questo prodotto attacchi A ripetizione Contro l'idea di qualità Vista come nemica Della giustizia Cioè a un certo punto Io faccio schifo Bisogna che Shakespeare Si levi e faccia spazio a me Per questo si crea il recinto In cui la stronzata Riceve gli aggettivi Che sarebbero Da lasciare Shakespeare Ok Perché sennò c'è già quello Ma dov'è lo spazio per me No? Molti artisti Si sentono defraudati E questo prodotto attacchi A ripetizione contro l'idea Di qualità Vista come nemica Della giustizia Qualità vista come nemica Della giustizia Assimili attacchi Soprattutto il museo serio Museo Lo potete cambiare Come volete Deve resistere Abbiamo visto come hanno ridotto Gli studi letterari Nelle università La qualità si dice È un trucco Il risultato di una congiura Dei maschi bianchi Per marginare il lavoro Di altre razze e culture Invocare la presenza Nelle opere d'arte È in qualche modo Un atto intrinsecamente repressivo Ci sono esempi allucinanti Non ve li sto leggendo No vabbè uno ve lo devo No vabbè Questo ve lo devo leggere È allucinante È allucinante Questo ve lo devo leggere Fa un esempio di questa mentalità È un virgolettato Da non da Tizio Caio Non so chi sia È il concetto Di genio artistico Requisiti quasi indispensabili Di questo artista eroe Sono le infiammate Filippiche Il fervore biblico Le incontrollabili Pulsioni sessuali Lo spirito competitivo Con Freudiano Complesso ed ipico Sullo sfondo E soprattutto L'ossessione esclusiva Per il lavoro Pensate a Michelangelo Van Gogh Rodin Picasso Pollock Potrebbero questi artisti Essere lesbiche Asio-americani Americani nativi Il discorso bianco Rabbrividisce Al pensiero di un simile caos Tanto è temibile La minaccia rappresentata Da queste trasgressioni Poi dopo fa notare Che Michelangelo È omosessuale Ma insomma Avete capito? Interessante da sapere Dietro queste balordaggini Perché parla anche di Basquiat Con cui lui non è tenero Dietro queste balordaggini Si annida una voglia Malcelata di segregazione culturale Che corrisponde A una delle tendenze Più corrosive Della società americana di oggi Corrosiva intendo Per qualsiasi idea Di terreno civile comune La tendenza a trattare Le asserite esigenze culturali Educative di un gruppo Donne, neri, ispanici Sino-americani Gay E chi più ne ha Più ne metta Come se esse prevalessero Su qualsiasi esigenza individuale Fossero tutte Automaticamente In conflitto Con i presunti voleri monolitici Di una classe dominante Alternativamente demoniaca E condiscendente Composta di capitalisti Bianchi Maschi E eterosessuali Sempre più Si dà per scontato Che l'orizzonte culturale Di ognuno di noi È stabilito E fissato Una volta per tutte Dalla nicchia In cui siamo cresciuti Certe volte Mi sembra di leggere Davvero robe Che ho detto Una buona trentina d'anni Dopo di lui E molti altri hanno detto Però sono cose Che abbiamo detto tante volte Il multiculturalismo Così inteso In modo negativo Perché lui ha anche Un'accezione positiva Come abbiamo visto Di multiculturalismo E la diversità culturale Interpretati dagli organismi Che erogano i fondi federali E da sempre più numerose Fondazioni private Sfumano in un incommiabile Obismo Servono ad acquietare Una mentalità populista Che si accontenta Del facile compito Di appoggiare Le differenze etniche E di sesso nell'arte Invece di cercare Cosa più ardua L'eccellenza vera Gran parte dell'arte Che viene fuori Da questi programmi È prolisso Kitsch paritario Alla gente piace Più o meno Per le stesse ragioni Per cui le piacciono I cartoncini di auguri Con gli aironi Stile giapponese E le frasi Di filosofia alternativa La fa sentire bene È una cosa Perfettamente conforme Alla tradizione evangelica Della vita culturale americana All'idea che produrre Consumare arte Eleva moralmente Edifica Rende cittadini migliori Ma l'arte promossa Da questo programma Può essere E spesso è Per le ragioni Che dicevo prima Sul personaggio Piuttosto banale E il multiculturalismo populista Può mutarsi rapidamente In una forma di razzismo Alla rovescia Come sa ogni artista Bianco maschio Che ultimamente Abbia fatto domanda Di sovvenzione Nella California meridionale Ok Il compito della democrazia Nel campo dell'arte È di proteggere L'elitarismo Non un elitarismo Basato sulla razza O il denaro O il rango sociale Ma sul talento E l'immaginazione I più grandi spettacoli Popolari d'America Sono elitari Fino al midollo Rugby Chiara traduzione Sbagliata Che è rugby Football Baseball Pallacanestro Tennis Ma nessuno è disposto A pagare per vedere me Che faccio gli 800 metri Stile libro In 35 minuti Nonostante la mia posizione Privilegiata Di maschio europeo Bianco Non propriamente morto Come lo sport L'arte è un campo In cui l'elitarismo Può avere libero corso A un prezzo trascurabile In termini di danno sociale Siamo quasi alla fine Vi voglio leggere giusto Le ultime cose Anzi siamo alla fine Questa è l'ultima cosa Che vi leggo Perché poi il libro È bello finito Discriminare Nella natura umana Facciamo scelte E diamo giudizi Ogni giorno Queste scelte Sono parte Dell'esperienza concreta Naturalmente Vengono influenzate Dagli altri Ma in sostanza Non sono il prodotto Di una reazione passiva All'autorità E noi sappiamo Che una delle esperienze Più concrete Della vita culturale È quella dell'ineguaglianza Fra libri Esecuzioni musicali Dipinti E altre opere d'arte Certe cose Ci colpiscono più di altre Ci appaiono più articolate Più illuminanti Possiamo avere difficoltà A spiegare perché Ma l'esperienza rimane Il principio del piacere Non mi piace tanto Sta definizione Ma va bene lo stesso Il principio del piacere In arte Ha un'importanza enorme E quelli che vorrebbero Vederlo declassato A favore di pronunciamenti Ideologici Mi ricordano I puritani inglesi Che avversavano Il circo dell'orso Contro i cani Non perché facesse Soffrire l'orso Ma perché dava piacere Agli spettatori Quindi libro consigliato Pagina 206 Aspetta Aspetta Me la ricordo Sta cosa Me l'hai nominata Ma si può essere certi Che questa affermazione Avrebbe subito Molte artissime rinascimento Per non parlare Di committenti Sì 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 Pesissimo Nessuno ha mai negato Che Sigismondo Malatesta Signore di Rimini Avesse un gusto Squisito Per edificare Un tempio In memoria Della moglie Assunse l'architetto Più raffinato Del quattrocento Leon Battista Alberti E poi lo scultore Agostino di Duccio Per adornarlo E Piero della Francesca Per affrescarlo Eppure Sigismondo Era un uomo Così spietato e rapace Che in vita Fu chiamato il lupo E da morto Fu tanto esecrato Che la chiesa Fece di lui Per qualche tempo L'unico personaggio A parte Giuda Iscariota Assegnato ufficialmente All'inferno Prerogativa Che egli si guadagnò Legando l'emissario papale Il quindicenne Vescovo di Fano Con la sua bianca Sopraveste di pizzo E sodomizzandolo Pubblicamente Nella piazza centrale Di Rimini Tra gli applausi Dei propri armigeri Non è questo Il comportamento Che ci si attende Dai custodi Delle grandi Istituzioni culturali Americane Ovviamente Si lega ovviamente Al solito discorso Di ok L'opera Quello che vale Non ce ne frega niente Della qualità dell'opera Non ce ne frega niente Chi era il tizio In vita Cosa ha fatto Ha detto una frase sbagliata La sua opera Non è degna Capuccetto rosso Me lo ricordavo Diverso Si si smontava la testa Mi nuova rimane guida Sì sono d'accordo Umberto È molto più oggettiva Sono d'accordissimo con te È una giustissima sensazione È molto più oggettiva La bravura di un tennista Per fare uno sport Mono Monogiocatore Che Di un artista E c'è il problema Che sottolineavo Anche sul mio blog Quasi vero Di chi Sancisce La bontà di un'opera Oggi Non esistendo più Quello che all'epoca Ancora esisteva C'è una critica Autorizzata Con tutti i suoi difetti Ovviamente L'unico criterio È quello numerico Quindi in ultimo Quello mercantile È tutto finito ragazzi Sì ci smondo Ma la testa Ezra Pound Lo definì Il miglior perdente Della storia Beh sì Devo dire che questo libro Chapeau Però Ci ho letto cose Che io ho sempre detto È stato Per certe cose Un po' come leggere me stesso Su alcuni passaggi Questo Un grande Giornalista Importante Bla 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 E scriveva nel 1992 E io nel 1992 Niente Vedevo Nigel Mansell Vincere il mondiale di Formula 1 E bestemmiavo Sì Nicolás Sì Vero Verissimo Quello che ha scritto Però attenzione Anche alla politicizzazione Dello sport Che è una cosa Molto interessante Giocavo a Street Fighter Eh sì Street Fighter 2 È del 92 Sì 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 Marrakesh Nella prossima vita Vorrei essere uno sportivo Così se sono il più bravo Cazzo è oggettivo Dipende dagli sport Ma infatti Non chiamo la Formula 1 sport Proprio perché È molto meno oggettivo Chi sia il più bravo E quindi è questo ragazzuoli Che ore sono? Le 18.44 A che ora finisco le live Di solito? Alle 20 È prestissimo È prestissimo Abbiamo iniziato prima Abbiamo iniziato prima E Ma è raga Ecco lo leggiamo Perché lo devo assolutamente leggere Vi ricordo Mercoledì Sera Alle 21.30 In diretta Sia su Wesa Channel Che Sul canale Di Boldrin Faremo la live Proprio sulla combinatoria Della creatività Quindi Questo articolo Lo devo assolutamente leggere Prima E quindi lo leggeremo in live Ma lo leggiamo martedì Perché ora sono un po' stanchino Entrambe le live Saranno per abbonati Abbonatevi a Wesa Channel Basta essere dei ragazzi Ok E poi uscirà Qualche giorno dopo Il prossimo Libro Non mi ricordo come si intitola Ce l'ho lì Ma adesso non mi voglio alzare È di Ligotti Ed è La cospirazione Contro la razza umana Per giovedì prossimo Quello era Lovecraft E quell'altro Edgar Allan Poe E quindi Grazie a Lealith Bella Lealith E quindi Questo io lo leggo Non è lungo Sono 180 pagine Mi sembra Potevo mettermelo sulla scrivania Vabbè Sono 180 pagine Tipo E poi Ve ne parlo Come abbiamo fatto oggi Come vi dicevo Voglio partire da dei libri Che ho in casa Che volevo leggere Quindi andiamo qui Farò anche Ne parliamo martedì Un Una sezione Dell'Uesa Shop Dedicata Ai libri Del club del libro Quindi il primo Sarà la cultura del pianisteo Il secondo La cospirazione contro la razza umana Sappiate Sappiate Che Ci sarà E forse sarà il terzo Quello della Soncini Questa è la cultura del pianisteo Quella della Soncini è La società dei lamentosi Come cazzo si chiama Il libro della Soncini Non mi ricordo come si intitola Ce l'ho lì anche quello Non mi ricordo L'era della suscettibilità Quindi il numero tre Sarà l'era della suscettibilità Non volevo fare La cultura del pianisteo E l'era della suscettibilità Uno dopo l'altro Perché mi sembrava di insistere Sullo stesso tema In realtà saranno diversissimi In mezzo ci mettiamo La cospirazione contro la razza umana A user Se è brutto È brutto E io dirò che è brutto Dirò quello che ne penso Insomma Questo qua Me l'avete tanto consigliato Sto ligotti A me è dell'antinatalismo Lì come me ne fregano Ugaz Non credo che quella cosa Argomentativamente Mi prenderà Però Pare che sia Tanto un figo Vediamo Ligotti Detroit 53 È ancora vivo Scrittore saggista statunitense Di letteratura horror È un libro di letteratura No 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 Ma Giulio Giulio Cesare Leggeremo anche libri Che non ci piacciono È così banale L'era della suscettibilità Vabbè lo leggerò lo stesso Sentite Ci faremo due gags Leggeremo anche robe Che ci stanno sul cazzo Perché Ad esempio Sappiate che A un certo punto Siccome ce l'ho in casa Mi era stato straconsigliato Leggerò La democrazia non esiste Di Pier Giorgio Odi Freddi Quindi Putinismo Puro Putinismo Ho letto una marea di libri Di Di Odi Freddi Quindi Un giorno Vi parlerò anche Di un libro di Odi Freddi Pensate un po' È la fine Un cattivo Un cattivo Una volta Era un buono Ma un buono dei buoni Odi Freddi Le cose sono molto cambiate Critica della vittima Che è un libro Che voglio leggere Il problema di critica della vittima È che non si trova Io non lo trovo Non vorrei dire una stranzata IBS Amazon Io non lo trovo Ma invece Ma invece 3-7 mesi 3-7 mesi In copertina flessibile Spedito in 3-7 mesi Cazzo Questo Questo lo vorrei assolutamente Assolutamente leggere Certo Andiamo sempre un po' a parare Sulle stesse cose Però Non compro un libro Su IBS Ah a Feltrinelli Si è comprata IBS Ma pensa Non compro un libro Su IBS Da 20 anni Ah avvisami Vuol dire che non è disponibile Avvisami Ah ecco Attualmente non è disponibile Oh se no Critica ficcante Critica ficcante Interessante Perdetti ai lavori Vabbè Vabbè Leggere le recensioni Si diventa matti Ok Ecco quindi Lo leggiamo Come vi dicevo Oddio qua Copyright Martedì Qua Hans Zimmer Sull'uso dei computer Ehi Zuckerberg Chiamaci un 6 minuti Di Zuckerberg Devo bere Scusa Silvio Berlusconi Editore Un nuovo capitolo Per la casa editrice italiana Con il primo libro Di Tony Blair L'assilio Berlusconi Editore Debutta con lo soggio Di Tony Blair Sull'arte di governare Promuovendo il concetto Di libertà Non di quelli Però che vengono bombardati E dando voce A autori contemporanei Nel nome del padre Marina Berlusconi La Silvio Berlusconi Battersi per il concetto Di libertà E dare voce Alle sue più varie declinazioni Mantenendosi però distante Nel modo più assoluto Da qualsiasi forma Di militanza politica Beh Partire con un politico Non è male Avrà una E non gli hanno fatto un sito? Ma com'è fondata Nel 1990 Venduta Arnaldo Mondadori Vendendo poi Incorporata Nel 95 Insieme a Berlusconi Era attiva Anche nel mercato Spagnolo Nel 24 Cioè oggi Il gruppo Mondadori Ha annunciato Che il marco Ricomincerà le pubblicazioni Il primo titolo Programmato È la traduzione Di On Leadership Nata per redazione Di Marcello Dell'Utri Nel 1990 Presidente di Publitalia Nel corso La società Ebbe Un presidente E due responsabili editoriali La casa editrice Ma pensate Non si finisce mai Di scoprire roba Portò al successo Il settimanale popolare TV Sorrisi e canzoni E con una mutazione Del marchio Pubblicò la collana Biblioteca dell'Utopia Serie di testi D'occasione Per i clienti Fininvest Il teatro greco Incredibile Sapete che Dell'Utri È un bibliofilo E credo che Eco mollò Non so quale società Di bibliofilia Perché c'era Dell'Utri Ci fu una mezza polemica In un articolo del 2006 Marco Travaglio Affermò che La traduzione Dell'Utopia Di Thomas More Accreditata A Domenico Magnino E la prefazione A firma di Berlusconi Furono copiate Dalla prefazione E traduzione Di Luigi Firpo All'edizione Del testo pubblicato Antecedentemente Dalla guida di Tori Pensate Adesso ci vado Del sito Ci vado Ci vado Eccolo Eccolo Aspettate Beccato Vabbè Pensavo di trovare Il faccione Di Berlusconi Tony Blair On leadership Voltaire Lettre inglesi François Furet Il passato Di un'illusione L'idea comunista Nel ventesimo secolo Guardate che c'è La firma Di Berlusconi Silvio Berlusconi Editore No fantastico Voltaire Silvio Berlusconi Editore Ha un'unica Parola d'ordine Libertà E la sua missione Principale È la qualità Editoriale Vogliamo dare voce Ad autori capaci Di lasciare un segno Per l'originalità Della loro opera Della loro testimonianza Della loro ricerca La libertà Può essere esplorata Raccontata Finita E testimoniata In molteplici modi Noi siamo interessati A tutti Mi viene da dire Ma ragazzi Della Silvio Berlusconi Editore Ma avete presente Chi era Silvio Berlusconi Anche così Anche così Si riscrive La storia Fantastico Walter City Interessante Cazzo Chissà se Chissà se Comprerò mai Un libro Della Silvio Berlusconi Chissà se Pubblicano L'olito Di Luttazzi Volevo vedere E ben ben Sono stanco Ma sono le 18.55 Eh ma sì Ma allora Potevano iniziare Un'ora prima Non so perché Poi ho voluto Fare sta gag Pensando Vabbè faccio tre ore Ma raga Io tre ore Nel serbatoio Non ce le ho più La chat Nell'interesse Consiglia questo video Sì Eternamente rido E' l'originale dei italianizzati Come fanno a venirgli in mente il male nel mondo E gli anime giapponesi E Warcraft E la regina delle tenebre E la regina delle tenebre Ma soprattutto come ha fatto la botteria Tirare fuori quella roba Nessuno gli parli dei pannelli fotovoltaici Vediamo Zuckerberg Grazie mille 715 abbonati Grazie Vediamo se anche la prossima settimana Riusciremo a stare al di sopra Dei 700 E' la seconda settimana consecutiva Che finiamo sopra i 700 Guarda se questa cosa fosse uscita nel 1989 Faccio per dire Sarei stato il bambino più felice Sulla faccia della terra Te lo giuro Perché mi sarei chiesto dove l'ha scritta Malboro Qua aggiungerei Secondo te Caro Ayrton Potevano farla però più grande Potevano farla più grande C'è veramente Pezzi E' fatta di troppi pochi pezzi A mille live con Dio Assolutamente si Piccina la McLaren Senna Dell'88 Piccina Bellina Ovviamente Si fa per dire Insomma Adoro i Lego Adoro i Lego Carinissimi Ma Se io ho una libreria Per qualche ragione Che ci stavo Io lo fai quel cazzo che vuole E uno dice Voglio Ci saranno 7000 subs Libere su Twitch Italia E io voglio per qualche ragione Esporre La McLaren Di Senna No? Ok Ma cazzo Ma mi prenderò la McLaren Di Senna Figa Cioè Quelle super realistiche Che è il Lego? E te? Non lo so Vabbè Sentite Zuckerberg Krimr Grazie No È colpa mia My fault My fault Aspettami Lo farò lo stesso Lo farò Lo farò perché La chat deve vedere La beltà Ah però mi Ah devo copiare Scusami Copia PD Ah ora Non riesco a copiare Non riesco a copiare Non riesco a copiare Il video di Krimr E non mi dai il copia Col pulsante a destra del mouse Come cacchio faccio? Sono inerme YouTube Grazie Marcio Ragazzi È un momento Di iconoclastia Quello che stiamo Per vivere Per vivere Tolgo il volume Perché metti che c'è Il copyright Voglio che anche le persone Su YouTube Su YouTube Possano Godere Ma non se l'è mangiato Dio poverina Non se l'è mangiato Ma poverina Dai non se l'è Ma poverina Ma poverina Ma non se l'è mangiato Ma perché dite che non se l'è mangiato Eh mancano dei pezzi Però non se l'è mangiato Eh ragazzi Voi non smoccolate mai Adesso Questo è body shaming È umanità shaming È umanità shaming Come si dice muco Come si dice muco Eh user Porca miseria Eh non riesco qua Ad aprire Instagram Porca miseria Snot Questo è quello che abbiamo prima visto Eh ragazzi Perché siete cattivi Non ha No Porca miseria No poverina Dai Poveretta No vabbè dai Ma che cattiveria Dio No vabbè raga Mi dispiace Poverina È giusto Dio È giusto È giusto Smitizzare Ma farei lo stesso Ma farei lo stesso Per me non è diventata meno bella O meno brava Per me non è diventata meno bella O meno brava Siamo tutti umani E sei lì In quella situazione lì E hai le mani sul piano Che fai? E anche lei caga Anche lei caga Fregna comunque Sì sono d'accordo Anche lei peta Caga e smoccola Dico comunque Bella per Travis Kelsey Poveretta Dai che cattiveria Vabbè poveretta Cioè poveretta Taylor Swift Ci vuole il coraggio a dirlo Però insomma Avete detto una cattiveria Bella per Travis Kelsey Il moccolo Esatto Avete detto una cattiveria Vabbè ragazzi Siamo tutti umani Anche la Taylor Beh questo compensa Compensa Eventuali idolatrie Di cui sono stato Follemente accusato In modo molto offensivo Una live su diritti universali E legalità internazionale A Socia Socia Volpe Quelli sì che sono temi interessanti Certamente E Jakosin Certamente sì Comunque ho capito Quando Taylor Si è prevasiva Da quando ho scoperto Che fa tre giorni Di concerto Qua a Dublino E metà dei miei colleghi A Microsoft Ha preso il venerdì Libero Grazie Nicolas Dell'inside data Sentiamo Zuckerberg Perchè quell'uomo agitava un cartello con le scritte di Instagram? Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Posso dire che è abbastanza interessante, il video è di quattro mesi fa. Oh, questo benedetto cartello arriva. Potrebbe rispondere, beh, sono stati sette giorni molto intensi. Chi è il Whistleblower trovato morto? Chi è il tizio che è stato trovato morto? Scusate. 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 Che razza di dibattito, al di là di tutto, ma comunque rispondi di nessuno. Scusate. 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 Esattamente. 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 La risposta. La risposta che dovrebbe dare Zuckerberg è letteralmente impeditemelo. Impeditemelo. Molto semplice. Avranno un cartello con la dick pic di Zuckerberg Ma perché si è trovato in questa situazione? Grazie Nicolas, grazie mille Pensa te Nick Sì sì, oppure potremmo dirgli Quello è il reato, esattamente Che sceneggiata incredibile comunque Che assurda l'America, mamma mia Lui fa il paraculo ovviamente Lui fa tutto per i soldi Il problema è che è un'impresa privata Cercare di mettere un imprenditore Che fa solo i cazzi suoi Di fronte a responsabilità che non ha O leggiferi O è illegale quello che fa E allora lo ingabbi e lo fermi Almeno vediamo Zuckerberg costretto a umiliarsi E qualcuno potrà dare soddisfazione Oppure possiamo sperare nel futuro del luddismo Ma su, su e della tu, scusami se è suedabile Ma scusami Certo ragazzi che ha solo frasi fatte Eh Zuckerberg, porca miseria Eh ma lì bisogna vedere com'è la legge americana Io sono convinto che Facebook sia in regola Con la legge americana Cioè se il limite è 14 più Vuol dire che quelle cose possono girare Se no ci saranno dei responsabili Se è quello che fa è illegale Qualcuno lo denunci Madonna se fallisse, se chiudesse Se andasse a gambellare Sarei felicissimo Sapete cosa penso di quelle piattaforme Che non ci sarebbe bisogno neanche Di quelle persone coinvolte Figuriamoci Certamente Nicolas Ma io infatti Penso che sia molto giusto Abbandonare le sue piattaforme Purtroppo io una la uso E così è È vero quello che scrive per sicchiotto Ma certamente sì Ma certamente sì Whatsapp poi non ne parliamo Davvero davvero Eh ma non le può comunque controllare Grazie Cetriolo Grazie mille Perché sono troppe Perché è impossibile controllare Tutta quella roba A mano Puoi fare dei controlli automatici Ma Ma purtroppo non è così semplice non è così semplice e basta sarebbe bello se fosse l'inizio di un di un movimento politico statunitense perché può solo essere statunitense che inizia davvero a muoversi contro le piattaforme social ma che fare io sono abbastanza sono abbastanza per l'irreversibilità di questo processo comunque sia qual è la soluzione anche perché se non lo fanno i cinesi e quindi se non lo fanno i cinesi non vogliono che li facciano i cinesi non c'è ritorno non c'è assolutamente ritorno eh se la gente si stufa sciapo per inteso con i cartelli che non si è piegato a microsoft powerpoint speriamo nella lotta alla droga che la gente si stufi di drogarsi poi non è uguale la dipendenza ma insomma è anche meno mortale che si stufi di drogarsi I do have a point of order and I would like to move to take down Ms. Green's words. That is absolutely unacceptable. How dare you attack the physical appearance of another person? Move her words down. Oh, girl, baby girl. Oh, really? Don't even play. Baby girl. We are going to move and we're going to take your words down. I second that motion. So you agree to strike your words? Yeah. Okay. Ms. Green agrees to strike her words. I believe she's apologizing. No, no, no. Okay, hold on. Then after Mr. Perry's going to be recognized, then Ms. Green. I'm not apologizing. Well, then you're not striking your words. I am not apologizing. No, let's go. Come on, guys. It's me. Ms. Crockett. I'm just curious, just to better understand your ruling. if someone on this committee then starts talking about somebody's bleach blonde, bad-built butch body, that would not be engaging in personalities, correct? A what now? Chairman, I make a motion to strike those words. Dio, raga, che orrore. Mamma, non riesco ad andare avanti. Cazzo, che orrore, veramente. Sembra forum. Sembra forum. Sì, 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 sì. Ecco l'azienda del Kentucky. Ma chi è MTG? Non la conosco. 50 secondi. Dio, Chanel. So, you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passport from any other nation? No, Senator. Lui non può accettare che lui non sia cinese. Lei ha la faccia da cinese. È questa la gang. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, no, not yet. OK. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. Ma è meraviglioso, ma è meraviglioso. Mi scusi, ma lei è proprio sicura di non essere cinese? Oddio, oddio, la democrazia americana. Merda. Vabbè, non è tutto così, però madonna. Ma hai mangiato un raviolo nella sua vita? Oddio. Credo che sarà molto bello. E qualcuno doveva provare. Stava facendo la domanda che tutti sentivano di dover fare. Ok, ok, qua in realtà le domande sono assolutamente giustificate perché deve mettere on the record che questo tizio non ha legami con la Cina in nessuna maniera. Altrimenti rischia di lasciare spazio per ritrattare dopo. Ok, quindi in realtà poteva essere giustificato. La cittadinanza russa. Ma sono di Bologna. Quindi lei è sovietico. Beh, grazie mille a Cotugno. Grazie del Prime. Oddio, 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 oddio. Mamma mia. Chi è MTG? Vediamo MTG. Ah, è quella di prima, la bionda. Ok, ok. Ha dato credito alla teoria del complotto Canon. Mamma mia. Donald Trump. Ha sostenuto le richieste di giustiziare, di giustiziare, importanti politici del Partito Democratico, fra cui Larry Clinton e Barack Obama. Penso Giulio Cesare. Ha equiparato il Partito Democratico ai nazisti, ma questo non ce lo facciamo mancare mai. le misure sul Covid-19, gli ebrei all'Olocausto, un classico, invasione russa, ha promosso la propaganda russa e ha elogiato Putin. Si identifica come una nazionalista cristiana. Beh, quanti pregi in due parole. Quanti pregi in due sole qualifiche. Mamma mia, mamma mia, che mondo. Orca miseria. Ah, il libro di cui abbiamo parlato oggi si applica perfettamente. Mamma mia. Ragazzi, io ho fatto, anche se molti di voi penseranno che la live è iniziata da relativamente poco, ma siamo a due ore e quattordici di live. Sì, 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 Giulio, esatto. Quindi in realtà vado a chiudere questa live. Abbiamo parlato un pochino anche del discorso del Cerbero, però non è che ci sia tanto da dire. Sì, sì, all'inizio della live... Ho iniziato prima perché volevo parlare di queste cose del Cerbero, perché qualcuno mi ha scritto su Instagram più di una persona dicendo... E pensavo che sarebbe stato un entusiasmo. In realtà, giustamente non è che ce ne freghi tantissimo, però giustamente qualcosina l'abbiamo detto. E poi comunque, a un certo punto, perché ho visto che si diceva del Club del Libro, quando avrò finito i libri in casa che mi interessa leggere, posso anche sottoporre a me stesso dei vostri consigli, insomma, nel caso. Comunque sia, vi ringrazio molto per aver seguito, ragazzuoli. Mi scuso con chi si vede finire la live prima, ma in realtà è stata una live un po' più lunga del solito e che è iniziata prima. Grazie mille, finiamo la settimana a 719. C'è stato un abbonamento? C'è stato un abbonamento? Forse non pubblico, ma non sono sempre pubblici gli abbonamenti. È salito di uno il conteggio degli abbonati, da 718 a 719. E ci vediamo... No, MD Maso, bella lì, grazie del Prime. Ci vediamo. Allora, lunedì, live su Wesachannel. Con Eugenio. Martedì, mercoledì e giovedì, alle 18 le live di Wesachannel. Mercoledì sera, alle 21 e 30, su Wesachannel, solo per gli abbonati Regaz o Superiore. E su canale di Michele Boldrin, solo per gli abbonati a Michele Boldrin. Live con Boldrin sulla creatività. Poi uscirà anche Free for All. Ma intanto, abbonatevi come Regaz, o ancora meglio come Vets, a Wesachannel. Stasera, live, reaction a Temptation Island sul canale di Eugenio con una femminista. No, in realtà credo che sarà interessante. Ah, e non è vero, ci vediamo anche domenica. Domenica guardiamo in live con lo spareggio sia il Gran Premio di Motociclismo che il Gran Premio di Formula 1. Quindi adesso, stasera, seguite Eugenio in live su YouTube. Domenica, doppio Gran Premio. Fomo. Fomo. Pallacotta, grazie mille del Prime. 700 però rimane 19, non so come vengono conteggiati. Bella lì. Non lo so, Phil. Conoscendo Eugenio non è da escludere. Non lo escluderei, ma state benissimo ragazzi. Ci vediamo qui.